Io penso che una cosa giusta dice Godard, scriveva Godard agli inizi, diceva io vado sempre a vedere tutti i film che escono perché anche il film più stupido, più banale, più mal riuscito, c'è un momento, anche un minuto, anche 30 secondi dove la macchina presa, gli attori, è successo qualcosa di miracoloso perché succede una coincidenza per cui c'è qualcosa di cinema da godere.